Non ha giornate di campionato per la Serie C Silver di basket e per l'Olimpica due sconfitte che non solo hanno lasciato un segno, ma anche la gestione stessa delle varie partite, che deve essere gestita con più sagacia. La brutta prestazione contro Francavilla è sotto gli occhi di tutti. Inutili nascondersi dietro un dito, i gialloblu hanno fatto una prestazione al di sotto delle aspettative. E se è pur vero che la squadra sta recuperando pian piano i suoi elementi migliori, deve lasciarsi alle spalle presto questo dato. La sfida del sabato alle 18 al Paladilio contro l'Adriavari è l'occasione giusta per capire se ci sarà l'atteso riscatto di immagine e gioco del team gialloblu. I baresi, ultimi in classifica, puntano su Delicari e Williams per dare un senso a una stagione cominciata negativamente. Le otto sconfitte minore conseguite sono un segnale d'allarme di non poco conto e si cercherà di ranzare la testa, provando a centrare la vittoria a Cerinio. Arbiti della partita saranno la coppia materana, Raccanelli e Di Monte. Mimno Siena, speciale news.